Intelligenza artificiale, realtà aumentata e metaverso aprono la strada alla nuova era del marketing esperienziale. Della tecnologia non se ne può fare a meno anche nella relazione con i clienti. Experiency Creative Tech Studio di Spencer Lewis ha portato a Milano in occasione del Fuorisalone 2023 le innovazioni studiate per aiutare i brand a stringere rapporti solidi con la loro community. Geo Ceccarelli, founder di Experiency. Noi parliamo sempre di creatività aumentata perché mettiamo la tecnologia al centro della creatività. Oggi presenteremo tre novità. La prima è una piattaforma di metaversa service. La seconda è un concept completamente nuovo che è il digital pop-up store. Quindi attraverso la realtà virtuale gli ambienti, anche se piccoli, in realtà diventano tendenzialmente infiniti e gli utenti possono esplorarli e verificare la qualità dei prodotti e saranno assistiti in questa esperienza dall'ultima novità che introduciamo che è Tipsy, che è una Personal Experience Assistant basata su motori di intelligenza artificiale dentro un corpo di un avatar che è in grado di rispondere in tempo reale ai bisogni degli utenti. La tecnologia diventa quindi uno strumento per creare engagement, attirare nuovi clienti e aumentare le vendite come sottolinea Giorgio Giordani, presidente di Spencer Lewis. Ci troviamo in un momento evolutivo incredibile. La tecnologia sta invadendo, ha invaso il nostro quotidiano, intelligenza artificiale e metaversa. Qual è la sfida che attende le aziende? Quello di capire che occorre governare principalmente i contenuti. Ma attraverso che cosa? Attraverso l'esperienza. Quindi noi come Spencer Lewis, come gruppo di connessione, siamo oggi insieme ad Experiency all'interno del fuorisalone perché vogliamo raccontare l'importanza del disegno dell'esperienza. Il design dell'esperienza significa il governo dei contenuti attraverso il governo della tecnologia. Quello che si sta facendo oggi è costruire l'impianto ed edificare quello che sarà domani per le nuove generazioni che inevitabilmente, vuoi per il mondo gaming, vuoi per il mondo engagement, inizieranno a interagire sempre di più. Le aziende, conclude Giordani, stanno preparando oggi quello che sarà domani l'impianto narrativo per avvicinare il consumatore finale del futuro.